Benvenuti alla tribuna elettorale di Bisceglie in diretta in vista delle elezioni regionali di domenica 31 maggio. Ospiti di questa tribuna elettorale Anna Rossi, Pietro Di Leo e Mauro Mongelli. Primo quesito riguardo la sanità. La situazione della Casa Divina Providenza e il piano di riordino ospedaliero spingono a delle riflessioni sulla sanità in Puglia. Quali posizioni avanzereste in merito all'interno del Consiglio regionale? Noi siamo per il rilancio della sanità pubblica che attualmente è in sostanza privatizzata per cui siamo per l'abbattimento del ticket, per l'abbattimento delle lunghe liste d'attesa che non permettono in realtà a tutti i cittadini di accedere gratuitamente alle cure mediche. Per cui i cittadini che possono permetterselo si possono rivolgere al privato, mentre quelli che non possono spesso sono costretti a rinunciare a proprio diritto di curarsi, di ricevere delle cure mediche. Siamo per la creazione di case di cura su tutti i territori, per l'assistenza domiciliaria alle anziane e anziani e per la piena attuazione della legge 194 che permette alle donne di avere accesso gratuito nelle strutture pubbliche per abortire. Rappresento i popolari per l'Italia e a questa domanda voglio semplicemente dire che con Emiliano siamo convinti di riavvicinare la sanità alle famiglie, alle fasce che hanno bisogno, siamo convinti di migliorare quello che è stato fatto nella precedente amministrazione. Puntiamo su Emiliano perché sappiamo che è una persona, che è un uomo sensibile ai problemi come la sanità e sicuramente la sanità rappresenta un bisogno, è quello che vogliamo fare e soddisfare i bisogni della collettività popolari per l'Italia. Vorrei ricordare che i dieci anni amministrati da vendola in perfetta continuità con Fitto hanno portato a uno smantellamento della sanità pubblica. Dobbiamo ricordare i 20 ospedali chiusi, il taglio dei postiletti. Nel nostro programma prevediamo la ripubblicizzazione della sanità con l'abbattimento delle liste di attesa e con le internalizzazioni di tutti i servizi sanitari per una sanità pubblica, gratuita, efficace ed efficiente. Tra le competenze della Regione Puglia ci sono la formazione professionale e le politiche del lavoro. Le vostre riflessioni in merito alle due tematiche. Anche da questo punto di vista abbiamo una posizione chiara e netta dalla parte dei lavoratori. Ricordiamo che in Puglia dopo questi anni di crisi capitalistica abbiamo assistito e stiamo assistendo a un abbandono da parte di imprese e società multinazionali del territorio. In questa maniera c'è un aumento di disoccupazione di lavoratori che vengono licenziati. Ricordiamo anche che sono stati in questi anni dati miliardi di euro di finanziamento pubblico. Le aziende una volta finiti i finanziamenti pubblici delocalizzano. Noi a questo rispondiamo con l'esproprio delle fabbriche gestione operaia. Formazione professionale. Formazione professionale partire dalle scuole. Le scuole che devono avere un ruolo importante nella formazione specifica di professioni. Il mio slogan è per una Puglia realmente turistica. Io credo che i giovani se vivono una scuola vicina alle aziende pugliesi che fanno turismo hanno la possibilità di formarsi dal punto di vista professionale. Noi abbiamo una terra, la nostra Puglia, che ha il PIL che spinge il turismo a livello nazionale. Abbiamo bisogno di giovani che a livello professionali creano situazioni di lavoro. E noi ci impegneremo in questo. Noi siamo per il reddito di cittadinanza e siamo per un piano regionale del lavoro che preveda tante piccole opere di grande utilità sociale partendo dalla riconversione ecologica del modello di sviluppo partendo dalla cura del territorio e quindi attraverso tutta una serie di piccole opere come la riparazione degli edifici pubblici e scolastici, come la riparazione delle strade tutte piccole opere che hanno una grande utilità sociale che si contrappongono invece alle grandi opere che non producono ricchezza diffusa ma che arricchiscono soltanto le grandi aziende e spesso producono anche disastri dal punto di vista idrogeologico ed ambientale. L'ambiente è una delle competenze nevralgiche della regione raccolta e smaltimento rifiuti, qualità dell'aria e delle acque balneabilità e rischi industriali. Quali le priorità? Quando parliamo di ambiente, quando parliamo di priorità il discorso è molto più profondo dobbiamo cominciare a rieducare i bambini, le nuove generazioni a una cultura di ambiente che prevede ovviamente una tutela del territorio ma non solo una tutela del territorio oggi il degrado purtroppo è istituzionale il degrado è sociale allora dobbiamo prima di pensare allo smaltimento riportare le famiglie, i giovani la società ad avere fiducia in qualcosa che veramente è tutelato dal punto di vista ambientale sano e positivo Dunque noi siamo invece per la riconversione ecologica del modello di sviluppo come ho già detto prima e vogliamo partire dalla ridefinizione del piano regionale dei difiuti che rimedi all'emergenza ambientale causata da una raccolta differenziata bassissima su tutto il territorio regionale e che produce poi il disastro delle numerose discariche al collasso delle numerose discariche poste sotto sequestro giudiziario siamo contro attraverso il piano regionale la strategia rifiuti zero che dovrebbe essere adottata con il piano regionale dei rifiuti vogliamo appunto superare la necessità di smaltire i rifiuti nelle discariche negli inceneritori che crea grossi danni dal punto di vista dell'inquinamento ambientale quindi un grosso rischio per la salute dei cittadini Per quanto riguarda l'ambiente quello che sta avvenendo oggi in Puglia è qualcosa di veramente devastante per la nostra regione siamo un partito non che richiediamo il voto comunque un partito elettoralistico siamo un partito di lotta e abbiamo seguito tutte le lotte che si sono fatte in Puglia a partire dalla Notap a partire anche dalla Notriv o comunque lotte contro le aperture delle discariche che stanno distruggendo il nostro paesaggio siamo per un rifiuti zero e siamo contro tutte le multinazionali che usufruiscono delle concessioni dei vari governi sia di centrodestra e di centrosinistra per speculare e danneggiare il nostro territorio Agricoltura, pesca e turismo tre risorse del territorio da valorizzare in che modo? Noi siamo per il rispetto e la valorizzazione delle vocazioni specifiche dei territori appunto in Puglia sono agricoltura, turismo e pesca innanzitutto contrapponendoci allo sblocco Italia che prevede le trivelazioni petrolifere nei nostri mari quindi mettendo a rischio proprio la pesca e il turismo e poi per quanto riguarda l'agricoltura implementando l'innovazione tecnologica messa a servizio dell'agricoltura e attraverso appunto la creazione di impianti di compostaggio che permettano di utilizzare compost di qualità nell'agricoltura piuttosto che i pesticidi che producono grosso inquinamento che mettono a rischio la qualità dei prodotti agricoli quindi mettono a rischio la salute dei cittadini parlare di turismo per me rappresenta una grande priorità ho tre proposte da lanciare pedaggio a costo zero per gli stranieri che vengono in Puglia nel periodo tra giugno e settembre quindi tutti gli stranieri che vengono in vacanza non pagano l'autostrada assunzioni a costo zero per quei giovani che fanno scuole di carattere turistico per le aziende che le assumono per lavorare, per formarsi dal punto di vista turistico e soprattutto delle free zone party che cosa sono queste free zone party? sono delle aree dislocate nel territorio pugliese che permettono ai ragazzi in un modo sano, pulito ed equilibrato di trovare quel divertimento che avveniva negli anni 80 sulla riviera romagnola questo è turismo per quanto riguarda l'agricoltura noi siamo favorevoli all'affidamento di tutti quei terreni incolti che sono presenti nella nostra regione a delle cooperative di giovani bisogna anche tenere presente che il terreno incolto può provocare anche un dissestro idrogeologico siamo contro e a fianco delle lotte che stanno avvenendo nel Brindisino e nel Salento contro l'abbattimento degli olivi perché bisogna ancora capire non è ancora chiaro cosa c'è dietro ci possono essere multinazionali del farmaco ci possono essere multinazionali per prodotti OGM speculazione edilizia per quanto riguarda la pesca siamo contro la pesca a strascico contro le trivelazioni che verranno effettuate nell'Adriattico 45 secondi di tempo per ciascun candidato al fine di rivolgere un appello al voto il voto all'altra Puglia significa dare possibilità a questo movimento di continuare a proseguire dopo le elezioni il percorso che abbiamo intrapreso quello di aggregare sempre più persone che non si sentono rappresentate dalle politiche di Renzi dalle politiche che saranno proseguite da Emiliano e danno in questo momento anche la possibilità di esprimere proprio dissenso rispetto a tutto rispetto alla buona scuola rispetto allo sblocchietale al Jobs Act quindi invito a votare l'altra Puglia con Riccardo Rossi presidente Votare Pietro Di Leo per una Puglia realmente turistica popolari per l'Italia siamo un movimento di centro un movimento moderato un movimento che vuole riportare i valori etici e sociali al centro di questa nostra società purtroppo c'è uno sfacelo nei confronti della politica abbiamo bisogno di persone credibili abbiamo bisogno di persone che ovviamente credono nei valori nelle persone e nelle vere motivazioni conosciamo Emiliano sappiamo del suo impegno serio e ovviamente lo appoggiamo in questa campagna elettorale perché siamo convinti che con lui si ottiene una Puglia migliore più che chiedere un voto agli elettori e agli elettrici noi chiediamo il sostegno la solidarietà e l'impegno ad avvicinarsi ad un partito che è realmente da una sola parte con un programma anticapitalistico la parte dei lavoratori dei disoccupati dei giovani dei casi integrati dei licenziati dei pensionati con un programma chiaro e netto differenza di altre liste che si presentano sotto altre sigle o comunque con Emiliano che rappresenta il renzismo in Puglia quello che invitiamo a seguirci a contattarci a creare una forza radicata in Puglia ad iniziare dalla Puglia per una forza comunista e alternativa e anticapitalistica a questo sistema basato sul profitto per un'impegno per un'impegno per un'impegno